Il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli ribadisce al Tg8 la contrarietà alla realizzazione di una nuova galleria del Gran Sasso come proposto nel progetto della società Strada dei Parchi con il placet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed afferma che la priorità resta l'acqua e quindi la salvaguardia della salute dei cittadini. Non è che non è la scelta prioritaria, per noi quella scelta è esclusa. Abbiamo adottato l'altra scelta che è quella di lavorare sul ripristino delle strutture che esistono per trasformarle tutto acciaio in inox, il tubo che attualmente è un tubo dentro il quale scorre l'acqua che è un tubo di cemento quindi è assolutamente non idoneo. Dentro ci va il tubo in inox, l'intero pavimento autostradale deve essere impermeabilizzato. Questa è la proposta che noi facciamo unitamente alla totale messa in sicurezza del laboratorio, che è l'altro problema, e alla costruzione di due potabilizzatori all'uscita. E' chiaro che questa proposta che costa alcune più di 100 milioni di euro, per intenderci, è un problema che noi consegniamo con un atto di deliberazione giunta che avverrà proprio in questa settimana, lo consegniamo allo Stato perché questo non è un problema degli abruzzesi, questo è un problema del Paese, nel senso che noi con piacere ospitiamo nel nostro territorio un laboratorio così importante o un'autostrada così importante, che sono però opere dello Stato. Il nostro problema è l'acqua. Noi abbiamo come compito istituzionale di salvaguardare la nostra acqua e visto che ospitiamo queste strutture e siccome queste strutture purtroppo interferiscono con l'acqua, è compito dello Stato mettere queste strutture in condizioni di non interferire con la nostra acqua. Gli abbiamo, facendoci carico diciamo di un compito che non toccava a noi, ma l'abbiamo fatto per senso di responsabilità, gli abbiamo anche indicato come secondo noi questo si può fare mantenendo l'autostrada e mantenendo il laboratorio, senza chiuderli, perché il nostro ovviamente ci rendiamo perfettamente conto di quanto siano importanti queste strutture. Però queste strutture possono convivere, coesistere con l'acqua solo se si fanno gli interventi che noi abbiamo detto, certamente non quello della terza canna.